I fondi europei sono i veri pilastri per la progettazione e la costruzione di un territorio. E' questa la grande convinzione di Cora Fattori, consigliera comunale fanese candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre all'interno della lista Rinasci Marche, di cui fanno parte più Europa, Verdi e Civici. Quello dei fondi europei è stato, insieme al lavoro, il tema portante dell'incontro di giovedì pomeriggio organizzato proprio dalla Fattori al Pincio di Fano, al quale hanno partecipato anche Costantino De Blasi, economista di fama nazionale e l'esperto di politica energetica Michele Governatori. Per la ripartenza di un territorio i fondi europei saranno indispensabili, strategici. L'Europa ci ha dato 209 miliardi da spendere al meglio. Parte di questi arriveranno anche alla Regione Marche e quindi i fondi europei che già erano ingenti cresceranno ulteriormente, ma bisogna spenderli bene. Con questo incontro vorremmo dare dei suggerimenti pratici e ci piacerebbe portare alla prossima amministrazione regionale una voce nuova per spiegare come si possono investire questi fondi europei. I fondi europei devono servire per creare un nuovo territorio, quindi bisogna analizzare bene quelle che sono le capacità e le peculiarità e i punti di forza di un territorio. Dove vogliamo andare? Vogliamo puntare sulla grande impresa? Bene. Dobbiamo riuscire a far rinascere la grande impresa. Vogliamo puntare sull'artigianato? Bene, deve essere un artigianato di eccellenza e dobbiamo puntare anche lì. Tutti i temi, dal turismo all'artigianato alle bellezze culturali, possono essere finanziati con i fondi europei, ma devono essere fatti in maniera professionale. E non bisogna spargere questi fondi con tanti bonus in modo clientelare. bisogna programmare quello che sarà il territorio dei prossimi vent'anni e fare in modo di costruirlo, di renderlo reale. Durante l'incontro si è parlato anche di mess, ricerca e valorizzazione dei piccoli borghi, ma a prescindere dai temi, la Fattori ha voluto innanzitutto suggerire un nuovo approccio alla prossima amministrazione regionale, alla quale chiede una maggiore attenzione verso i fondi europei per sostenere aziende, amministrazioni e associazioni, ma anche più investimenti in settori strategici come ambiente, digitale e sociale. Dal 2011 al 2018 la comunità europea ha finanziato dei progetti in tutta Europa. Possiamo prendere esempio, sono progetti ambiziosi, progetti ampi, non li dobbiamo fare uguali, ma possiamo copiare e ispirarci. Sono progetti nati dalla collaborazione tra università e imprese. Noi nelle Marche abbiamo quattro università e due scuole d'arte, accademie d'arte e quindi abbiamo tutto il potenziale per poter far crescere una nuova impresa sui temi ambiente, digitale e sociale grazie ai fondi europei.